Non so negli altri paesi d'Europa se è a questo livello, e tutto sommato mi interessa poco, ma in Italia il livello è inaccettabile, è intollerabile. È intollerabile che qualcuno continui a attenuare questo dramma, questa situazione, dicendo che non è il problema della violenza sulle donne, è il problema della violenza. E basta. Allora, quando avremo centinaia di uomini in Italia uccisi barbaramente dalle donne, allora ci sarà parità, il problema sarà solo la violenza, saranno solo gli omicidi. Ma quando ogni tre giorni una donna viene uccisa, e fate questo calcolo... Ma io volevo vedere le previsioni del tempo, porca troia, che caso vuole questo caso? Con una scansione così, ogni tre giorni una donna viene uccisa, è una cosa intollerabile. Ma è rotto il caso, ma brutta checca dal caso! Perché il giorno dopo, quest'evento su cui tutti poi stiamo parlando, che ci ha colpito particolarmente, di questa giovane, il giorno dopo un'altra donna è stata uccisa. Cioè, lo dobbiamo fermare questo treno, perché è veramente intollerabile, è incivile. Mettiamoci una mano sulla coscienza e facciamo quello che possiamo. Grazie. Ma vatta un affanculo!